Buongiorno a tutti, signori ed ecco a voi un botti di bovino nobile, tutti tagli di prima qualità, con una riduzione di cipolle, esattamente tre tipi di cipolle, bianca, ramata e montoro, assieme ad una concassè di verdure con olio extravergine di oliva e il miglior vino bianco. Signori ecco a voi la genovese, detta così è un'altra cosa, ti fa percepire subito il sapore. La nostra genovese, giriamo, giriamo, giriamo e voilà, appena messo in vaschetta anche il nostro soffritto, signori l'inverno è arrivato e noi siamo operativi al 100%. Oggi tra le tante cose, ritorna il nostro involtino, cotto e fior di latte, tenerissimo, involtino, bracioletta, come preferite, va bene lo stesso. Eccolo qua. La trippa. Il fegato. Involtino. Ed eccoci qua, vi porto dentro come sempre. A voi il giudizio. Dall'imbottino alla fracosta, passando per la genovese, le nostre girene di salsiccia, la costoletta di maiale perugino, il polpettone, le cotolette di vitellino, il soffritto, gli impanati, la trippa, il fegato, polpette, polpettine, cervellatine, salsicce, toscane, la nostra salsiccia a punta di coltello col fior di latte di Vico. Stamattina c'è tutto. Mi ricordo che chiudiamo alle ore 14. Un bacio a domani.